Gli amici Closciar a reggere il feretro, i canti, la cerimonia interconfessionale. Così Palermo ha salutato Aldo, il senza tetto ucciso da due minorenni che volevano rubargli 25 euro. Lucia Sgueglia. Il Corano, l'Ave Maria, è un canto iddish scritto nel Lager degli Artisti di Teresin. È un funerale laico, insieme interconfessionale, l'ultimo addio di Palermo ad Aldo, il senza tetto musicista ucciso domenica sera mentre dormiva in strada per 25 euro da un sedicenne. Organizzato grazie alle donazioni di amici, conoscenti, commercianti, accanto al sindaco tanti cittadini comuni, migranti, volontari che lavorano in strada e Closciar. Ci siamo sentiti di appoggiare questo gruppo di semplici cittadini che senza uno schieramento politico, religioso, voleva semplicemente ricordare la morte di una persona, la morte di un membro della nostra comunità. Una morte così orribile sia per la morte del Closciar ma anche una pietà, una tristezza per l'assassino. Speriamo appunto che questa cosa, questa attenzione che c'è su di Aldo morto, si possa riversare sui mille Aldi che vivono per strada. Tre persone sono morte quest'anno senza fissa dimora ed è un allarme che deve impegnare tutti. Poi sotto i portici dove viveva ancora un saluto pieno di affetto e dolore.